Questo è un 3. Non vorrai che passi al 4. Se passo al 4 ti cacherai addosso e questo non lo vuoi. Non lo voglio io, non lo vogliono loro. Ti piace immischiarti negli affari degli altri? Sto cercando di non farlo, ma tu mi rendi la cosa molto difficile. Non dovresti immischiarti in questioni che non ti riguardano. È una brutta cosa, no? Dio sa quanto sono allergico alle cose brutte. Sai, secondo me qualunque cosa nella vita dipende dal tempismo. Ora sfortunatamente il tuo non è molto buono. Tre settimane fa non avremmo fatto questa conversazione, ma adesso sono qui. E questo posto comincia a piacermi parecchio. E anche le persone. Sto cominciando a credere nel profondo del cuore, che è esattamente qui che dovrei stare. Quindi, qualunque cosa facciate tu e i tuoi amici. Per favore, fate l'altrove. Hai capito? Mi stai avvertendo. Ti sto preparando. Hai capito che ha detto? Che mi stai preparando? È simpatico, no? Quello è un Timex. No. Fermi lì. Fermi lì. Ti sto comprimendo il nervo mediano. In una scala da 1 a 10, questo è un 2. Questo è un 3. Non vorrai che passi al 4. Se passo al 4 ti cacherai addosso e questo non lo vuoi. Se non lo voglio io, non lo vogliono loro. Se udia i tuoi compari di andarsene e che si sbrighino. Andate via! Andate via! È la compliance dolorosa. Il tuo cervello ti dice di fare una cosa, ma il tuo corpo ti dice di farne un'altra. Ora ascoltami. Togli la pistola dalla cintura. Mettila sul tavolo. Piano. Togli la pistola dalla cintura. Piano. Piano. Il tuo cazzo americano, va! Il tuo viene, va! E' una sigaretta. Che vuoi fare, Marco? Di ammazzare sto vecchio buttano, va! Vincent. Il tuo cazzo, Vincent. Il tuo non mi deve dire che devo fare. Andiamo. Dammi la pistola, forse. Oh! Dammi la pistola! Che parlo? Eh? Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì.